Vogue 2015, giorno 3. L'argomento di oggi è una destinazione che vorresti davvero visitare. E voglio andare un pochettino controcorrente in un mondo in cui sono tutti lì a dire «Eh, mi piacerebbe andare negli Stati Uniti, è California Dreaming...» mi piacerebbe visitare gli Stati Uniti, questo sì, non voglio dire di no assolutamente, ma prima di tutto la destinazione che vorrei veramente visitare è giusto una virgoletta più al nord, perché mi piacerebbe visitare il Canada. Sono molto curioso, da una parte perché sicuramente gli Stati Uniti sono una destinazione forse anche un po' troppo inflazionata, e soprattutto ci sono quelle tante grandi e piccole differenze tra il Canada e gli Stati Uniti che mi incuriosiscono. Io sono stato uno di quelli che, prima di quel famoso video di Matthew Santoro, pensava che comunque obiettivamente il Canada e gli Stati Uniti fossero fondamentalmente la stessa cosa, o quasi, sapevo che erano comunque due nazioni differenti, ma effettivamente ci sono tante grandi e piccole differenze che mi incuriosiscono e tanti posti che comunque mi piacerebbe visitare. E tra le altre cose mi piacerebbe anche poter visitare Toronto, e magari sarebbe bello andare in qualche raduno di youtuber canadesi e poter incontrare gli youtuber canadesi che seguo da più tempo, tra cui appunto Matthew Santoro, i ragazzi di ASAP Science, e via discorrendo. Quindi sicuramente il Canada è la destinazione che vorrei veramente visitare, sicuramente poi, subito dopo, gli Stati Uniti. Magari uno potrebbe andare a fare un viaggio che lo porta in Canada, fa un cost to cost in Canada, poi scende negli Stati Uniti, un bel cost to cost negli Stati Uniti. Questo sì che sarebbe un viaggio interessante. E voi invece qual è la destinazione che vorreste veramente visitare? Fatemelo sapere con un commento qua sotto, e come sempre ricordatevi di fare pollice-in-alto, condividere questo vlog e iscrivervi al canale. Bene ragazzi, sono Grizzly, questo era il VOGA 2015, il vlog ogni giorno in agosto. Noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!